Cambia l'insegna, via in Coop arriva Coop-Fi e anche l'interno si trasforma. A Volterra la Coop diventa grande conquistando 200 metri quadrati in più e migliora la scelta sugli scaffali. I primi a festeggiare sono i 40 dipendenti con tanto di taglio della torta. La realizzazione di questo progetto è la concretizzazione di un'idea che noi portavamo avanti da anni. Unicoop finalmente ci è venuta incontro e ha consentito la realizzazione di questo negozio che sicuramente è il più attrezzato e il meglio organizzato dell'intera zona. Quindi è proprio una grande soddisfazione per i soci e per i clienti. Sono molto contento in questo momento e credo che per il cliente socio di Volterra ce ne fosse bisogno di avere un negozio che comunque rispondesse alle loro esigenze. Diverse settimane di ristrutturazione e due giorni di chiusura sono serviti per regalare un nuovo volto al supermercato. Cosa cambia Volterra? Cosa è cambiato? Allora sicuramente l'inserimento del forno per la pala, il reparto forneria, per creare delle schiacciate diverse, completamente nuove rispetto a prima. E poi è stato ingrandito tutto il reparto freschi, un ampliamento, una visibilità maggiore, più luce e un modo di fare la spesa nettamente migliore rispetto a prima. Abbiamo anche rinnovato tutto l'assortimento per quanto riguarda i vegani, per quanto riguarda una serie di prodotti tutti salutistici, abbiamo un assortimento molto ampio per quanto riguarda i celiaci, abbiamo ampliato tutti i reparti freschi da partire dalla piazza dell'ortofrutta con l'inserimento di tutta la stagionalità e di tutti i prodotti sempre molto attenti al locale. Tra le novità anche la fornitissima cantina, molti vini del Chianti insieme alle migliori proposte toscane e italiane per il bicchiere. Il banco gastronomia si è rifatto il look e alla fine della spesa c'è la possibilità di aspettare meno in fila. A Volterra arrivano tre casse fast per fare lo scontrino da soli e due dedicate al salvatempo. Gli articoli sono registrati via via sul lettore e quando il cestino della spesa è pieno il conto è pronto. Anche l'area del parcheggio è stata migliorata, nuovo manto stradale, posti riservati ai diversamente abili e a chi è in dolce attesa. Com'è lavorare in un negozio tutto messo a nuovo? È totalmente un'altra cosa, non ti sembra nemmeno di venire a lavorare. Molto entusiasmante perché c'è tutto nuovo, anche le persone sono tutte entusiaste, vogliono conoscere le nuove cose e quindi è molto bello, piacevole. Penso che sia un passo avanti per tutti noi, per i dipendenti, per Unicop Firenze, per tutti noi. Vedi l' interpreter! Vedi l' interpreter è male! Vedi constantly! Vedi l'冬uxista! Vedi l' callerla! Vedi L'иях